Cari figli, con materno amore vi prego, amatevi gli uni gli altri, che nei vostri cuori sia come mio figlio ha voluto fin dall'inizio, al primo posto l'amore verso il Padre Celeste e verso il vostro prossimo, al di sopra di tutto ciò che è di questa terra. Cari figli miei, non riconoscete i segni dei tempi? Non riconoscete che tutto quello che è intorno a voi, tutto quello che sta succedendo accade perché non c'è amore? Comprendete che la salvezza è nei veri valori, accogliete la potenza del Padre Celeste, amatelo e rispettatelo. Camminate sulle orme di mio figlio, voi figli miei, apostoli miei cari, voi vi radunate sempre di nuovo attorno a me perché siete assetati, siete assetati di pace, di amore e di felicità. Dissetatevi dalle mie mani. Le mie mani vi offrono mio figlio, che è sorgente d'acqua pura. Egli rianimerà la vostra fede e purificherà i vostri cuori, perché mio figlio ama con cuore puro ed i cuori puri amano mio figlio. Solo i cuori puri sono umili e hanno una fede salda. Io vi chiedo cuori del genere, figli miei. Mio figlio mi ha detto che io sono la madre del mondo intero. Prego voi che mi accogliete come tale, che con la vostra vita, preghiera e sacrificio mi aiutiate affinché tutti i miei figli mi accolgano come madre, perché io possa condurli alla sorgente d'acqua pura. Vi ringrazio, cari figli miei, mentre i vostri pastori, con le loro mani benedette, vi offrono il corpo di mio figlio. Ringraziate sempre nel cuore mio figlio per il suo sacrificio e per i pastori che vi dà sempre di nuovo.